Ciao ragazzi, oggi vi parlo con l'Idebelice, che arriva direttamente da Vita in provincia di Trapani, quindi dalle mie parti. Sono felicissima di ricevere questo pacco, anche perché troveremo tutti i prodotti della Sicilia. Già gli ho dato una sbircatina. Praticamente sono tutte conserve, ma anche l'olio della valle del Belice, quindi della provincia di Trapani. Troviamo tutte queste specialità, ovviamente qui abbiamo le mandorle, patè di carciofi, la caponata, pomodori secchi, insomma tutti i prodotti tipici siciliani. Vi faccio vedere che cosa mi hanno inviato. Allora, innanzitutto abbiamo queste mandorle, che ho intenzione di fare con queste mandorle, il perfetto di mandorle, che è una squisitezza. Poi qui abbiamo questo barattolino, dei pomodori secchi sott'olio, fantastici, io li amo i pomodori secchi. Poi, qui c'è il miele di sulla, anche questo buonissimo con le fette biscottate. Poi, questo di qua, il patè di carciofi, fantastico, anche per un antipastino veloce. Guardate come si presenta la confezione con questo telo di juta e questo di qua, questo cordicino, che comunque è fantastico anche come una box idea regalo. Cioè, puntate sempre sul cibo, ragazzi, quando dovete fare un regalo. E poi abbiamo qui la caponata siciliana, ovviamente non può mai mancare. E come ultima cosa, il nostro olio. Ovviamente, olio extravergine d'oliva, della Valle del Berice. Fantastico, io adoro tutte queste cose. Non vedo l'ora di assaggiare tutto. E vi farò sapere come saranno.